E lì incominciamo a scivolare nelle risposte, non sappiamo bene come dire cosa è il cielo. E tante volte pensiamo a un cielo astratto, un cielo lontano, un cielo... Sì, si sta bene lì. Alcuni pensano, ma sarà un po' noioso stare lì tutta l'eternità, no? Ma il cielo non è quello. Noi camminiamo verso un incontro. L'incontro definitivo con Gesù. Il cielo è l'incontro con Gesù.